Otto colpi esplosi e dubbi sullo speronamento all'auto dei carabinieri. E quanto emesso dalla perizia effettuata oggi pomeriggio sulle due auto coinvolte nell'incidente stradale avvenuto il 16 gennaio scorso che ha portato alla morte di Antonio Dello Russo, il 39enne di Mercogliano, inseguito dai carabinieri perché non si era fermato a un posto di controllo nel territorio di Ibaiano. Oggi l'esame alla presenza del consulente Martino Farneti del Centro Balistico di Roma, nominato dal legale della famiglia della vittima Fabio Tuliniero, del perito della procura Alessandro Lima e del medico legale Elena Picciocchi. Durante la perizia effettuata presso il commissariato di polizia di Lauro, dove le vetture sono sotto sequestro, sono stati valutati una serie di elementi, tra cui la compatibilità degli urti. Dall'esame sembrerebbe che l'auto dei carabinieri non sia stata speronata, confermati invece gli otto fori ritrovati nella vettura di Dello Russo, i militari avrebbero esplosato colpi, di cui due finiti nella gamba e nel braccio del 39enne. Naturalmente sono elementi che andranno analizzati e valutati al termine della perizia, in quanto le operazioni peritali continueranno il 2 marzo. Intanto gli investigatori sono ancora in attesa degli esami dell'autopsia, compreso quello del test tossicologico.